Noi chiediamo chiarezza e certezze soprattutto sui tempi di attuazione della terza fase di quell'appalto che è un appalto per un importo di 1.800.000 euro quindi neanche pochi soldi appalto che prevedeva il dragaggio, il deposito dei fanghi e poi lo smaltimento successivamente. Questa terza fase deve chiudersi necessariamente entro il 31 dicembre 2017. Siamo a metà settembre, siamo seriamente preoccupati dalla mancanza di notizie soprattutto dal fatto che non ci sono attività in corso che lasciano immaginare lo smaltimento dei fanghi se qualcuno pensa davvero che quella possa essere una terrazza sul mare sbaglia di grosso quello è un grosso detrattore ambientale che va eliminato, eliminato velocemente rispettando il contratto che è un contratto abbastanza oneroso per la pubblica amministrazione. Secondo voi in questi tre mesi ci può essere la possibilità con questi tempi ristretti di fare tutto questo? No, questo non siamo in grado di dirlo, occorrebbero i tecnici per fare affermazioni di questo tipo. Noi rilanciamo, ripeto, il tema in Consiglio Comunale oggi abbiamo chiesto di audire in Consiglio, quindi davanti a tutta la città sia il provveditore alle opere marittime sia il comandante della direzione marittima che sono i due soggetti istituzionalmente interessati a questo tipo di attività perché dicano al Consiglio Comunale e alla città di Pescara quando quel grossissimo, bruttissimo detrattore ambientale sarà eliminato soprattutto pretendiamo che si faccia chiarezza anche sugli aspetti economici se la ditta che deve smaltire non procede è del tutto evidente che quei costi non possono essere caricati alla pubblica amministrazione insomma ci sembra il minimo sindacale quello di pretendere chiarezza e certezze